quella bentornati sul canale benvenuti in un nuovo video oggi terza prova a non ridere franco franco sono qui con una prova non ridere leggermente modificata perché innanzitutto per farlo diventare un po più una gara perché altrimenti ridiamo a cavolo non ridiamo questa volta cerchiamo di farlo un po più serio nel senso che faremo una sorta di gara in cui ci vedremo cercheremo che dovremmo cercare di non ridere giusto di non ridere tipo alla fine chi perde facciamo una penitenza che sceglieremo noi quindi ovviamente uno cerca di non ridere perché altrimenti fa una penitenza esatto chi ride guadagnerà un punto e ovviamente alla fine chi c'ha più punti perde esatto e sarà bella si sarà un punto se no risatina 100 risata un sorriso non passare no risanto vabbè iniziamo che schifo ma tra me è vero sono un po sui fratelli questi c'hanno la stessa meglio che cominci ma a me mi fa ridere a me mi fa ridere a me mi fa ridere la risata tu ma io non ho riso per quello subito e riso perché hai riso tu mi tocca aprire il punto perché provano a ridere anche per chi ride ride in silenzio non posso ridere in silenzio ci provano ok ma perché slow motion va più ride? no 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 stavo pensando stavo pensando arriva nick e partiva nick o queste cose si sta sotto in una via allucinata eccolo 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 vinto questa era quella di prima eh di risata e certo sarà giocato così pure questa cosa è quella del primo video troviamo un livello estremo ah questa la vuole freddo lo smite da oh bello felissimo oh che buono c'ha più un laso Voldemort ah gli esce eh beh effettivamente ma perché mi sa che il peso tipo zigomo questo si ho fatto male posso usarlo? scout mi sa che è la prigione ma si è rialzato e non ha detto niente vedete questa scommetta gli toglie la palla lo assicuro ah sì oh oh era proprio mirato che era no 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 non ce l'ho più vede come fanno ma mi ha fatto ridere ma è uno che è volato eh gli ho fatto male però ma no è in piedi lo vedi quanto è rigolo il vispo il vispo sta appingendo oddio sei quello che esca insomma porca non si che non si è sgonfia il gonfiabile tu ha questo lo sai che è? questo è cioè vi senti quando a GTA c'era il bug che non ti entrava dentro le cose quindi il personaggio cascava ma non c'entrava uguale quindi Yoda butter di risotto beh quest'altro o andava lì o andava a finire sotto il pugno fighissima una sparapalle la voglio pure io quello che ti ha in faccia mi ha fatto il commento sul video stai a faccia si panno subito questo è quello che ti ha fatto per Instagram vedi che tigre c'è la tigre dietro oh nice c'è la tigre dietro qui su scusa vedi che tigre ma che è oh guarda c'è la tigre vedi oh ma è carina si da dietro è più carina da avanti pure eh sicuramente nooo perché ma non pesa niente quel coso pettirallo su bombe bombe così può accompagnare solo guarda che vedi guarda che vedi sulla testa poi questo è il nuovo cremonino ragazzi ma almeno male perché almeno te sei rato da le dalle scusa però oh quanti sei ma fricci hanno? molti taschi nooo sulla folla sulla folla questa è una frog splash è giusto modo per far colpo su una ragazza cioè però adesso aspetta io voglio vedere il livello intellettuale di questo lui voleva rompere la lampada e quella si è messa in mezzo sì ma non sei neanche normale che vuoi prendere azzampare la tua ma può essere pure normale però non è normale che tu ma come può essere tu ragazzi mentre lui sta a fare la cosa del genere ti metti in mezzo e ti arriva un calcio in bocca è giusto è giusto così il karma oh che fa scoglietta ampia ammazza twerk sì twerk così anzi si è fatta pure poco male non ti sa quanto ha bevuto ma perché ma perché orco tu qui gli ha rovinato ma perché vai sono quasi così faceva io non lo so perché eh madonna strike è quello a piedi è quello capito perché guarda che fia hanno fatto questo mi sa che mi sa che andò andò a finire così ha realizzato adesso perché oh 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 si ma quello è un coglione che continua andava non vedi che c'entra un tour che ti è sempre nato sbom uuuu bello fuori una mo cambiala deathmatch questo è stupido questo io penso da come te viene in mente questo è quello sveglio di turno guarda te bravo io cascato non si sa io cascato non lo fa come i griffin che fa questo vabbè è un cretino eh adesso gliela dà la mano prima gli ha chiesto la mano l'ha tirata via adesso che cascato gliela dà la mano è una resata giustamente non mi devi che piega la macchina non mi devi che piega la macchina possibile porca puttana no no questo è fatto malissimo questo è rotto qualcosa questo è rotto tutto non so se la testa ha preso lo spigolo o l'ha lisciato no quasi però penso che al ritorno l'ha chiappata c'è mancato poco perché se no era morto vabbè comunque ha sgarrato un muro run run e c'è da correre quello per culo è rimasto appeso guarda ninja warrior ma come c'è salito questo da qua ecco c'è una botola ma io dico ma qui del bar tranquilli qui ma perché c'è una botola ma poi aperta mi fa ridere la barrista che non si è corrida ti dice ma bo dove è finito lo faccio pure da figlio mi piace mi piace pure questo no però oh le mini moto fighe no non so mini moto lo porta via lo porta a casa sul casco aprite sta cazzo di porta poi gli parte il martello si io ci penso io è l'aperta occhio a quell'altro occhio che arriva la scala occhio che arriva passaggio alla marinara stanno i cocco vabbè aspetta questo è il muratore che ha lavorato le schifo cioè come fa cascati una colonna noi in Afghanistan hanno fatto questo video comunque è bello che quello stava ovviamente lì relax e si vede con la tutta testa ma aspetta ma il gioco era prendere sul culo e ha preso l'unico che era girato non si è accorto vede no 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 come ha fatto appiace la faccia ah perché ha fatto pa pom zitto adesso fa la cazzata come ha ma sa fio gol mo lo derite pure venga che papà di merda che figo ecco che gioco è? è dodgeball e tutti hanno una palla? eh si è tipo squadra preso gli è partita la dentiera quello c'è stato un pezzo che gli si è visto quella qualcosa lo so no dentro c'è uno dentro forza che botti che sta da quello non si ricorda faccio più come si chiamano cioè va quello gli do a carico vinciata dall'abc vabbè anche questo video penso è finito sono più soddisfatto rispetto a quelli altri rispetto perché ho visto meno gatti più gente che si fa male che cosa che cercavamo in teoria più gente che si fa male chissà che avrà perso non lo so che poi lo saprò quando monterò il video io lo so ho sto dubbio sei negativo purtroppo si vabbè lo penso anch'io però non volevo vabbè non si sa mai magari mi sono perso qualche l'usata del giuliano lo vedremo nel video lo scopriamo se lo chiamano lo scopriamo non so ok quindi ovviamente chi perderà questo video che voi lo saprete alla fine del video farà come abbiamo detto una penitenza che sceglieremo nel prossimo video faremo quindi un video a parte dedicato per questa cosa lo do l'ora preparati preparati come al solito se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace condivide il video sotto il video trovate il link dei vari social la pagina facebook e i link dei video precedenti se volete andare a vedere le altre program non ridere dovete andare a vedere anzi prima andate a vedere i video precedenti bravo dici prima un o due non iniziate tre o due eh sì perché comunque c'è una storia capito uno fa la serie per questo motivo insomma dovrebbero vederli in serie anche perché in ogni video c'è un messaggio criptato che dovete sa voi coglierlo sarebbe lascia fare c'è un messaggio criptato iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per non perdervi le notifiche dei nuovi video quando arriveranno e niente di qualcosa per chiudere questo video lasciaci come una perla di sargesse sai come muore capitano un cino si fa abitare una mano sbagliata no dai chiudi basta non ce la faccio non sono esperto devi vabbè ci vediamo nel prossimo video ciao gente